Per androni, ancora a dormire, svegliatemi, muovetemi, sbrigatemi, tra una cosa al giorno, e dobbiamo essere pronti, oggi voglio, voglio cambiare, cambiare? Sì, cambiare, voglio fare uno spettacolo nuovo, nuovo? Vediamo, possiamo fare la storia di... C'era una volta un pezzo di legno, è proprio un bel pezzo di legno, ci farò la gamba per quel vecchio tavolino, ma dov'è venita la mia sega, eccola qua, eccola qua, pinocchio, eh sì, è proprio lui, ma guarda com'è venuto bene, eh sì, ma... Criccric, ma chi è? Criccric, non ho mai capito cosa fai tu qui, invece di essere a scuola! Pinocchio, oh Pinocchio, c'è il tuo povero papo che ti aspetta, dove sei? eh? Eh? Fermatelo, fermatelo! Eh? Lasciatemi, lasciatemi! Eccomi qua! Ah, figlio suo eh? Sì, certo! Eh? 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 Vai, vai su, su, su! Il Gran Teatro dei Burattini di Mangia Cuoco! E' lieto di presentarvi le sue mirabolate di pazze! Sono qui ragazzi, ecco! Vai da scampare! Ciao amici! Eh? Amici! Ciao! Eh? 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 Io sono Pinocchio! E perché sei venuto a gettare sconfino nel mio teatro? Eh? Eh? Ah! Ah! Ma che piedo! Pinocchio! 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 Eh? 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 Sì! Eh? 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 Ma qui non passa nessuno! Qui non passa nessuno! Qui non passa nessuno! Ma come non passa nessuno? Ma io devo andare a cercare il mio babbo, per favore! Ma che? E si vede anche il mare! Ma si vede tutto il mondo, in un modo diverso! Eh? Oh Pinocchio! Guarda! Quella è l'isola! Sei pronto a tuffarti? Sì! Ti salvo io babbo! Babbo! Abbo! 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 Ma che razza di pesce mai questo! Oh! Va bene! Va bene! Per la mia frittura va tutto bene! Ma come sei? Sono qui alla finestra! Sì alla finestra! Cazzo! Ma sei lì! Allora! Ma adesso! Come va avanti la storia? Pinocchio è sulla spiaggia che sta camminando! Quando in lontananza vede! Eh? Presto però non si può dire ad una lumaca! Ma su! Sbrigati! Ecco un attimo! Arrivo! Arrivo! Senti! Che cosa? La musica! La musica? Questa è la musica! Nel carro! Eh! Attenzione! Attenzione! Ha arrivato il postiglione che vi porterà nel paese dei balocchi! Arrivederlo di noi! Oooooh! No! Ohhhhh! Ohhhhh! Oooooooh! O? Ecco a voi lo spettacolo più incredibile del mondo che fa sognare grandi e bambini il circo equestre! Pinocchio, più semplice, quanto fa uno più uno? I-A! Rappi! I-A! I-A! Come troverai? Vai, togliamo! E-A! Pinocchio, ritornato burattino, si incamminò verso il mare dove aveva visto la barchetta del suo babbo allontanarsi, allontanarsi e sparire tra i flutti! Mamma, vedo qualcuno laggiù! Oh, la sento ancora! Pinocchio! Babbo! Dove sei? Babbo, sei tu! Per te! Ho scalato montagne, ha percorso pianura e, infine, sul mare! Pinocchio resterà per sempre una marionetta e continuerà a raccontare la sua storia a tutti i bambini del mondo per sempre! I-A! cancino e Grazie a tutti.